Musica Picchia la moglie, arrestato un trentenne dell'Est Europa, aggredito la compagna colpendola con calce e pugni nella loro casa davanti ai figli, fermato dai carabinieri e ora in carcere a Livorno. L'Elba al voto amministrativo, oggi panorama dei candidati a campo nell'Elba e Marciana, a campo la sfida tra nuovo progetto per campo e il movimento punte a capo, a Marciana si fronteggiano Lista Civica, Anna Bulgaresi e Marciana insieme. Napoleone e l'Isola d'Elba, questo è il titolo ancora provvisorio della docu-fiction di Infinity Blue che porta alla ribalta il periodo elbano di Napoleone dal punto di vista dell'isola in cui ha vissuto per dieci mesi. Mountain Bike, a Capoliveri la leggenda continua, recensioni entusiastiche dalla stampa specializzata per la quinta edizione della Capoliveri Legend Cup che ha toccato il record di iscrizioni portando nel weekend sull'Isola centinaia di persone. Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura una notizia di cronaca e di quelle notizie davvero odiose. Un uomo di origini dell'Est, dell'Est Europa, ha picchiato la moglie ed è stato arrestato e ha aggredito la compagna con calci e pugni mentre si trovavano nella loro casa, fatto che è successo a quanto pare diverse volte e lo faceva davanti ai figli. È stato fermato dai carabinieri e ora si trova nel carcere di Livorno. Ha aggredito la moglie colpendola con calci e pugni all'interno della loro abitazione di Portoazzurro ma poco dopo è stato arrestato dai carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Portoferraio. A finire in manette un trentenne dell'Est Europa, noto agli uffici per i suoi trascorsi penali, domiciliato da alcuni anni nel centro longonese. L'uomo, stando alla ricostruzione dei fatti, per diverso tempo avrebbe vessato, insultato e minacciato la moglie anche in presenza dei due figli minori, arrivando persino a colpire la donna con violenza in diverse circostanze. La vittima, condizionata da un forte timore, sino a qualche giorno fa non aveva mai voluto formalizzare alcun atto d'accusa nei confronti del marito, sperando in un suo ravvedimento. L'ultimo controllo al pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio ha però fatto scattare automaticamente il codice rosa che è quello assegnato alle donne vittime della violenza di genere che si presentano alla struttura sanitaria con segni evidenti dei maltrattamenti subiti e che fa partire un percorso che va dall'assistenza medica e psicologica alla denuncia, fino all'accompagnamento nell'iter processuale. Così i militari sono riusciti a convincere la donna a trovare la forza di raccontare tutti gli episodi che era stata costretta a subire. A questo punto i militari hanno bloccato l'uomo, scongiurando più gravi conseguenze e lo hanno trattenuto in camera di sicurezza in attesa della convalida dell'arresto avvenuta all'indomani presso il Tribunale di Livorno. Il giudice, anche per evitare che si potessero reiterare le violenze, ha disposto per l'indagato la custodia cautelare nel carcere di Livorno, in attesa del processo che lo vedrà rispondere delle accuse di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ancora cronaca, però ci spostiamo a Portoazzurro dove due donne addette alle pulizie in un supermercato sono state denunciate perché continuavano a rubare merce dal negozio. Sono state denunciate appunto dai carabinieri. Probabilmente il sistema era collaudato poiché andava avanti da tempo ed i titolari del negozio di generi alimentari si erano accorti più volte di ammanchi di merce. Alla fine, oramai stanchi di subire, si sono rivolti ai carabinieri dell'alliquota operativa della compagnia di Portoferraio, i quali, organizzando dei servizi mirati a riscontrare la veridicità di quanto segnalato, hanno effettivamente colto con le mani nel sacco due donne addette alle pulizie del medesimo locale, mentre uscivano dopo aver effettuato i previsti lavori, con un sacchetto pieno di generi vittuari chiaramente non pagati. Sorprese dai militari, le due donne hanno tentato di giustificarsi dapprima negando ogni addebito, seppur evidente, successivamente scaricandosi a vicenda le responsabilità. Adesso le due donne dovranno affrontare un processo presso il Tribunale di Livorno per concorso in furto aggravato. La merce recuperata è stata contestualmente restituita ai legittimi proprietari, i quali hanno immediatamente interrotto qualsiasi forma di rapporto lavorativo con la ditta che si occupava delle pulizie dei locali e che aveva assunto le dipendenti infedeli. L'Elba al voto amministrativo. Oggi un panorama dei candidati a campo nell'Elba e a Marciana. A campo la sfida è tra nuovo progetto per campo e il movimento punte a capo. A Marciana si fronteggiano la lista civica Anna Bulgaresi e Marciana insieme. Da oggi fino a venerdì illustreremo il panorama elettorale elbano con una carrellata delle liste dei candidati che nei comuni elbani, 5 su 8, domenica prossima, 25 maggio, si sfideranno per il rinnovo dei consigli comunali. Andranno al voto Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Marciana e Campo nell'Elba. Oggi partiremo dal versante occidentale, domani parleremo di quello orientale, venerdì finiremo con Portoferraio. Nel versante occidentale vanno al voto Marciana e Campo. In entrambi i comuni si presentano per il secondo mandato i sindaci uscenti, rispettivamente Anna Bulgaresi e Vanno Segnini. A Marciana si confrontano due squadre, una è la lista civica Anna Bulgaresi, in cui l'attuale primo cittadino chiede agli elettori la conferma. Si presenta invece con la compagine Marciana insieme Luigi Logi, già sindaco del paese, per due legislature. A Campo nell'Elba il sindaco Vanno Segnini si ripropone all'insegna della continuità, con la lista Nuovo Progetto per Campo. Lo sfidante è Lorenzo Lambardi, già consigliere dell'opposizione nell'attuale legislatura, che si presenta con il movimento Punto e a Capo Rinascita Campese. Venerdì 23 maggio si chiude la campagna elettorale, poi l'appuntamento finale con gli elettori domenica 25 maggio dalle 7 alle 23. C'è una comunicazione di servizio alla manifestazione Un Mare di Sapori, prevista per il prossimo weekend 24 e 25 maggio a Marciana Marina, non ci sarà ed è stata rinviata il 19 e 20 luglio. Una decisione conseguente a problemi tecnici legati alla mancata approvazione da parte dell'amministrazione comunale del bilancio di previsione. Il rinvio della festa al 19 e 20 luglio prossimo è stato concordato tra il comune di Marciana Marina, le categorie economiche e le attività commerciali. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, Napoleone e l'Isola d'Elba, questo è il titolo ancora provvisorio della docufiction di Infinity Blue che porta alla ribalta il periodo elbano dell'imperatore. Sentiamo. Le origini italiane, il titolo nobiliare, la passione per i libri, l'arte e i cavalli, le donne della sua vita e personale e intimo il ritratto di Napoleone Bonaparte che emerge dal documentario Napoleone e l'Isola d'Elba prodotto da Infinity Blue in occasione del bicentenario dell'arrivo dell'imperatore all'Isola d'Elba. Interviste, luoghi, fissione e soprattutto emozione tratteggiano un Napoleone diverso rispetto all'immagine che ci è stata consegnata dai libri di storia, un uomo precursore dei tempi la cui modernità, quanto mai attuale, ben si adatta alla realtà di oggi, ai suoi problemi, alle sue contingenze. Sei il recente protagonista della fiction Una buona stagione su Rai 1, in questa fiction hai interpretato il cattivo, come ti trovi nella veste dell'imperatore? Sorprendentemente bene, in Una buona stagione effettivamente facevo il fratello meschino un po' lo iago della situazione e mi aspettavo di calarmi nella parte di un Napoleone abbastanza duro, diciamo così, imperatore, mentre invece mi ritrovo nei panni di un Napoleone molto umano. La cosa interessante del lavoro che stiamo facendo adesso è proprio questo, stiamo lavorando su un Napoleone umano, essere umano, con le proprie forze e le proprie debolezze. La novità sta nel punto di vista, quell'isola d'Elba che ha accolto ed ospitato Napoleone, la cui permanenza ne ha segnato per sempre la storia. Napoleone, decaduto dal ruolo di imperatore, stabilisce forzatamente all'isola d'Elba la sua nuova residenza. Gli elbani si dividono tra chi lo accoglie nella speranza di benefici per sé e per l'isola e chi invece percepisce la sua presenza come una minaccia, lo vede come un nemico. Quello che è certo è che prima del suo arrivo, fino al momento in cui gli elbani si rendono conto della sua fuga, l'isola ha vissuto circa un anno di gloria e grande speranza, a metà strada tra storia e leggenda. L'isola d'Elba sotto le luci della storia, nuovo palcoscenico europeo, un'isola che insieme al ritratto inedito e personale di un Napoleone forse poco conosciuto è protagonista assoluta di un docufission che miscela con equilibrio e ricostruzione storiche il linguaggio narrativo. Infinity Blue offre con questo documentario una visione storica, puntuale e veritiera che trova fondamento in un'accurata ricerca delle fonti ed interviste ai più competenti studiosi del periodo, abbinando alla fedele ricostruzione storica, priva di sensazionalismi, la fission affidata avvolti noti del piccolo e grande schermo come Alessandro Bertolucci. Che cos'è una docufiction? Partiamo da un presupposto. Il documentario ha uno scopo così didattico, divulgativo. Adesso, diciamo, con le nuove frontiere dell'intrattenimento c'è bisogno di coinvolgere il pubblico in maniera un pochino più profonda. Ecco che la componente fiction di un documentario offre questo spaccato sul personaggio che stiamo descrivendo e di cui stiamo parlando. Nel nostro caso, appunto, apriamo una finestra sulla vita di Napoleone. Medicina interna. I migliori medici saranno all'Elba per un convegno organizzato dal direttore dell'ospedale Plinio Fabiani. Si parlerà di diversi argomenti che vanno dalle cardiopatie ischemiche al diabete mellito, dall'ictus cerebrale allo scompenso cardiaco. L'appuntamento è per il 23 e 24 maggio. Al via la due giorni di dibattito e confronto sulle tematiche della medicina interna, organizzata dalla FADOI, la società scientifica medica che cura questa branca della medicina. Il 23 e 24 maggio, presso l'hotel Airone di Portoferraio, si confronteranno i migliori specialisti della regione, dalle 13 del venerdì fino al pomeriggio del sabato, su temi che spaziano dalla cardiopatia ischemica al diabete mellito, dall'ictus cerebrale allo scompenso cardiaco. Organizzatore della iniziativa è il direttore dell'ospedale Elbano, Plinio Fabiani. I momenti di studio e confronto, come quelli del 23 e del 24, dice lo stesso Fabiani, rappresentano un'ottima occasione di miglioramento a favore della salute dei cittadini. Ben ritrovati in studio, rassegna musicale per la media Pascoli. Le tre classi a indirizzo musicale dell'istituto si sono esibiti insieme alla scuola Molteni di Pontassieve, Lamazzini e Niccolini Palli di Livorno. 180 ragazzi hanno eseguito brani tradizionali dal mondo per oltre due ore di concerto. Sentiamo. Le tre classi dell'indirizzo musicale della scuola media Pascoli hanno ospitato, presso la tensostruttura delle ghiai e la rassegna musicale. Gli studenti portoferraiesi per l'occasione hanno suonato insieme ai ragazzi della scuola media Maltoni di Pontassieve, con cui la scuola Elbana è ormai gemellata da anni, con gli allievi della scuola media Mazzini e del liceo Niccolini Palli di Livorno. L'iniziativa è stata promossa dal remuto, la rete musicale toscana costituita nel 2009 per volontà della regione. Tema della rassegna di quest'anno è stato World Music e i 180 ragazzi hanno eseguito brani delle diverse tradizioni musicali del mondo, esibendosi in una panoramica straordinaria, dal tango argentino al ritme blues statunitense, fino ai ritmi caraibici, senza dimenticare Mozart o Beethoven e i compositori moderni. Alla fine dello spettacolo, dopo oltre due ore di ottima musica ed entusiasmo alle stelle, le due scuole gemellate di Portoferraio e Pontassieve hanno celebrato il bicentenario napoleonico, eseguendo la marsigliese. A presentare la rassegna Fabio Punis, presidente del Consiglio d'Istituto del Comprensivo di Portoferraio. Alla fine un ringraziamento per la coordinatrice dell'indirizzo musicale portoferraiese, la professoressa Chiara Galliozzi, per tutti i docenti, i genitori, il personale scolastico che tutti insieme hanno contribuito alla splendida riuscita dell'evento. Muntan Bike a Capoliveri, la leggenda continua, recensioni entusiastiche da parte della stampa specializzata per la quinta edizione della Capoliveri Legend Cup, che ha toccato il record di iscrizioni portando nel weekend sull'isola centinaia di persone. In gara, doppietta vincente dei fratelli russi Medvedev. 20 anni dopo, a Capoliveri, la leggenda continua. Nel 1994, la prova di Coppa del Mondo, che in molti fra la stampa specializzata definirono una delle tre migliori gare di mountain bike del ventesimo secolo. Nel 2014, a chiusura di un ciclo di cinque anni che ha visto il gruppo organizzativo del Capoliveri Bike Park partire letteralmente da zero, una manifestazione di livello assoluto, o meglio un weekend di sport e di spettacolo che ha portato sull'isola e a Capoliveri 550 atleti in gara, è un indotto almeno triplo di accompagnatori addetti ai lavori, riscuotendo fra l'altro commenti entusiastici da parte delle testate specializzate online che hanno seguito l'evento. Questo è il resoconto della quinta edizione della Capoliveri Legend Cup, gara valida come terza prova del Mountain Bike Tour della Toscana e come prova unica del campionato regionale di federazione sulla distanza marathon. I tre giorni di spettacolo sono iniziati come da tradizione al venerdì, con la Chiasi Cup, gara della specialità XC Eliminator, corsa fra i vicoli del paese, i Chiasi appunto. In Napalio una serie di soggiorni all'isola d'Elba che sono andati al russo Dmitri Medvedev che ha vinto la gara maschile e alla svizzera Sofia Pezzati, prima fra le donne. Al sabato lo spettacolo ha avuto come protagonista soprattutto il campione di bike trial Alberto Limatore che ha mostrato a tutti la propria classe di pluricampione di specialità e vincitore di una prova di Coppa del Mondo coinvolgendo grandi e piccini in uno show di livello assoluto. La domenica mattina la gara con una starting list degna di una prova di World Cup. A contendersi la vittoria finale e il monte premi complessivo di oltre 15.000 euro, 550 partenti e una ventina di atleti elite, tra cui gli specialisti delle distanze marathon Marzio Deo e Massimo De Bertolis e l'ex stradista attualmente icona toscana della mountain bike Francesco Casagrande. La lotta però si è subito ristretta fra le due squadre più forti presenti in gara e cioè la Full Dynamics di Mauro Bettin e la Silmax X Bionics di Giuseppe Giordano. A dettare legge sono stati i primi con una tattica di gara impostata sulle grandi condizioni di forma dei fratelli Medvedev. Il più giovane dei due Dimitri, vincitore anche della Classic Cup, attaccava subito già dalla salita di Sigurd facendo il vuoto. Alla sua andatura resistevano solo in quattro Samuele Porro della Silmax, Francesco Casagrande e due dei suoi compagni di squadra colombiano Kia Amaya e il fratello di Dimitri, Alexei Medvedev. Era quest'ultimo a partire intorno al trentesimo chilometro al passaggio dalle miniere. Da quel momento è stata una cavalcata solitaria fino al traguardo di via Mellini con lo sprint per il podio vinto proprio da Dimitri Medvedev su Samuele Porro. Fra le donne ancora dominio della nazionale svizzera Sofia Pezzatti, arrivata in solitudine al traguardo. La proverbiale ospitalità capoliverese ha concluso la giornata con un vero e proprio pranzo party in piazza a base di prodotti tipici del luogo. Una ricchissima cerimonia di premiazione ha salutato i partecipanti, molti dei quali si sono trattenuti ancora per qualche giorno sull'isola. E' partito il giro podistico dell'Elba, la favola sportiva più antica d'Italia, il resoconto delle prime due tappe, quella di Portoferraio e la seconda di Capoliveri. Sentiamo. Una bella favola che si racconta e si corre da ben 24 anni consecutivi quella del giro podistico dell'Elba. Cominciata con tre prove nell'aprile del 1991 per poi passare alle attuali cinque che si stanno disputando in questi giorni fino a sabato prossimo. Un impegno complessivo che sfiorerà i 50 chilometri, l'esordio alle terme di San Giovanni, l'area benessere appena fuori Portoferraio che in occasione dei suoi 50 anni di attività al servizio degli Elbani e dei turisti ha ospitato la prima tappa. Martedì mattina si è corso a Capoliveri. L'accogliente Piazza Matteotti ancora una volta ha rappresentato la location ideale per raccogliere i girini del 24esimo giro podistico per la seconda tappa prima delle tre mattutine. 11 chilometri 900 non ha segnato la fatica di buon'ora sotto un cielo da prima nuvoloso e poi diventato soleggiato che ha reso ancora più spettacolare il finale di gara. E' proprio su questo che abbiamo puntato l'accento di fronte alla seconda vittoria ancora in volata dell'elegante Trentino Paolo Ruatti. Quest'ultimo ha regolato di misura il Pisano Andrea Gisi e il modenese Tommaso Manfredini. Al quarto posto un altro esordiente Gerbrunner della Valposteria su Alessandro Galizzi che rappresenta sempre più la speranza ilbana per il 43 atleta di Marciano. Una prova di cartello dove ha provato più riprese di allungare i suoi rivali ma nulla potuto contro la verve dei primi quattro che stanno conducendo anche la classifica generale. Altro copione è la prova femminile dove continua a dominare Monica Baccanelli. La Bresciana non fa sconti, questa volta vince per distanco. Lascia oltre 20 secondi il rivale Lucia Filippi e poi sul podio Loretta Catarina, quarta Giovanna Cavalli, specialista delle 100 km. Ora il giro si concede 24 ore di riposo. Si riparte domani pomeriggio nella cornice di Piazza Matteotti, questa volta a Porto Azzurro per toccare lungo i suoi 12 km anche la casa di reclusione di Porto Azzurro e chiudere il tutto nella centralissima area davanti al porto, sempre con la regia della Promo Sport Italia di Venturina e con l'entusiasmante adesione di oltre 400 partecipanti. Questo pomeriggio gli atleti hanno dovuto affrontare la terza tappa dal lungomare di Porto Azzurro e riproporrà il passaggio all'interno del penitenziario di Porto Azzurro. Giovedì come previsto sarà dedicato al riposo, visto come recupero fisico, mentale, balneazione, shopping e quant'altro. Come al solito venerdì si sale, è proprio il caso di dirlo, a Rio nell'Elba. L'indomani sabato gran finale nella cornice di Rio Marina. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie di essere stati con noi, a voi tutti una buona serata, arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS